iniziamo a vedere da vicino e a conoscere cinema 4d light incluso in adobe after effects cc apri un nuovo progetto crea una nuova composizione 1280 x 720 pixels e inserisci un livello testo 3d con scritto cinema 4d e alla base del testo una forma 3d a ellisse sia il testo che la forma sono piatti non sono estrusi aggiungi anche un livello luce di tipo spot un livello luce di tipo ambient per illuminare la scena in questo modo e aggiungi infine un livello videocamera a due nodi con un preset di lunghezza focale di 50 mm in alternativa se vuoi avere il progetto già pronto come sto lavorando io scarica il progetto in allegato esportare importare livelli 3d da after effects e cinema 4d per esportare ad esempio i livelli della composizione a cui stiamo lavorando per modificarli con cinema 4d light seleziona un livello nella timeline e poi clicca su file export maxon cinema 4d exporter subito si apre una finestra di dialogo che ti chiede come vuoi esportare il testo la prima opzione che dice strudi testo come forme massima fedeltà nell'esportazione in inglese la voce extrude text as shapes consente di creare un file cinema 4d con estrusione di base convertendo il file testo in una forma questa opzione è consigliabile se non dovrai più modificare il testo la seconda opzione invece mantieni testo modificabile preserve editable text consente di esportare i livelli di testo 3d come oggetti di testo con estrusione nel file di progetto di cinema 4d e consente di modificare il fonte il testo in cinema 4d che crea un file di progetto punto c 4d con estrusione di base lasciamo selezionata la prima opzione e clicchiamo ok after effects per prima cosa ti chiede di salvare il progetto di cinema 4d nominiamolo come il progetto di after effects e clicchiamo su salva ora puoi importare all'interno di after effects il file di progetto di cinema 4d appena creato e quindi andiamo su file import file e seleziona il file appena creato importa come vedi è stato creato una nuova composizione contenente un livello con un elemento di metraggio di cinema 4d diamo sprogetto ecco che abbiamo adesso due composizioni una è quella originale e la seconda è quella contenente l'elemento di metraggio ossia il progetto di cinema 4d e automaticamente si è anche impostata nella finestra gestione effetti apparso l'effetto cineware che ci permette di controllare le impostazioni di rendering la qualità di rendering le videocamere le passate o i livelli di cinema 4d utilizzati per il rendering tralasciamo per il momento questo argomento e vediamo come modificare il file di progetto di cinema 4d seleziona nella timeline il livello cinema 4d e clicca su edit edit original la shortcut è control più e per mac os command più e cinema 4d light si avverrà subito e mostrerà i livelli della nostra composizione all'interno della sua interfaccia più avanti ci soffermeremo sull'interfaccia per il momento focalizzati sulla parte destra dove trovi l'elenco di tutti i livelli inclusi i livelli luce e livello camera e qui abbiamo il nostro livello forma e il nostro livello testo che si è trasformato in tanti livelli forma ogni forma per ciascuna lettera in basso a sinistra trovi le opzioni materiale e in basso a destra le proprietà degli oggetti cliccando come visto sul simbolo più o meno puoi aprire la struttura della gerarchia dei livelli all'interno del pannello object manager i livelli forma 3d e livelli testo forma 3d vengono automaticamente esportati come oggetti spline con estrusione di 20 centimetri in questo caso comunità di misura se ad esempio selezioni tutte le lettere tutti i livelli delle lettere dell'alfabeto dal primo all'ultimo tenendo premuto il tasto shift sia maiuscolo puoi modificare ad esempio il valore di estrusione clicchiamo su 100 e spostare attraverso le nostre assi delle coordinate il testo più a sinistra utilizzando chiaramente ecco tutte le opzioni come anche sappiamo già fare in after effects ecco spostiamolo così in modo che il testo si trovi al centro della base ad ellisse ora salva il progetto perché ogni volta che salvi un progetto queste modifiche saranno apportate all'interno del livello il contenuto in after effects e minimizziamo la finestra per tornare ad after effects come vedi automaticamente in after effects le modifiche apportate in cinema 4d light sono già applicate a livello contenuto nella timeline di after effects hai visto che l'interazione tra i due software è semplice veloce diretta e istantanea quindi ogni volta che applichi una modifica in cinema 4d salva il progetto e torna in after effects per vedere il risultato nella tua composizione ora salva il progetto perché ci servirà per scoprire più da vicino cinema 4d e la sua interfaccia ti aspetto nella prossima lezione ciao 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 ciao